Siamo Collettivo Gocomedi e siamo qui per presentarvi Felfit Evo. Felfit Evo è un extruder di plastica in filamento, che aiuta a tutti per produrre il suo filamento su casa. Questo è un progetto aperto e sperimentale sarà usato per l'ambiente, per l'esperienza e per salvare i soldi. Il nostro obiettivo è di iniziare una piccola produzione in serie di Felfit Evo e per fare questo progetto necessitiamo il vostro aiuto. Per scrivere il nostro Dissertato Mastro di Dissertazione, avevamo l'opportunità di entrare in contatto con i tradizionali del mondo e 3D printers. Abbiamo amato 3D printers, quindi abbiamo deciso di produrre qualcosa che potrebbe essere utile per le persone che normalmente lo usano. Questo è un printer 3D, ma per farlo bisogna anche questo. Il filamento che hai bisogno di produrre è estremamente impensato se compare con il prezzo del stesso materiale in formato dell'industrial pellet. E anche più se compare con il nuovo materiale usato da vecchi, defective o usato prints, che puoi ottenere con no costo. Felfit Evo extrude 3D printing filament starting from industrial pellet or printing waste, with high precision. Among the others PLA and ABS. In fact, thanks to its features, it is suitable for any type of experimentation on different materials. Evo means evolution, as this project comes from the first Felfit, open and do it yourself. Even though we truly believe in your manual skills, we decided to simplify the process for the lessest ones and for the less experienced. So, no more excuses are allowed. Felfit Evo is very simple to use. You upload the material in the hopper, then choose the correct setup using the easy menu and it's done. When Felfit reaches the correct temperature, it starts to extrude. We are the only one who propose a chamber and nozzle specifically realized, granting the highest quality and reliability. An electronic board, compatible with Arduino, controls the temperature and contains presets according to the materials, but it can also be reprogrammed according to specific needs. The anodized aluminum case is thought to be strong and easy to set up. We put a lot of our time in the development of this project, also sustained by Polytechnic of Turing through E3P and its 3TBit program. So please, support us and share our idea even as well as contribution can make the difference. Thank you.